Un saluto a tutti, un saluto ovviamente a Alessandro Grazioli e a tutti i lettori di Social Bergamo, Social BG. Il tratto distintivo della mother folk è sicuramente la sua natura benevola. Il suo donarsi incondizionatamente, come fa la natura stessa, la grande madre terra, che nonostante venga spesso umiliata, oltreggiata, inquinata, non smette per natura di donarsi, di donare i suoi frutti. La copertina lo mostra, questa figura che io poi ho sognato durante il Covid sembrava volesse uscire fuori dal mio subconscio per manifestarsi e farmi coraggio. A volte il difficile non è ottenere, ma richiedere ciò che veramente ci serve, ciò che è importante per noi. Mother folk è un disco visionario, ma anche radicale, infatti parla di respiro, di preghiera, di lavoro, di bellezza, di coraggio, di ritorni a casa, di vagabondaggi e paesaggi, di isole e valli, cambiamento e spaesamento. Questa è la natura del disco e questa è la natura del totem, ovvero di questa mother folk. L'esperienza dell'abbraccio è molto forte. La gente, fino a prima del Covid, aveva preso a baciarsi spesso, anche gratuitamente, anche senza un vero senso. Colpi di guancia e di zigomo contro altri volti, a volte anche un po' a vanvera, perché erano persone che nemmeno conoscevi. C'era questa moda, questa abitudine del bacio, che poi adesso tornerà a me, auguro, perché vorrebbe dire che siamo meno spaventati. Comunque rischiava di diventare un'esperienza anche abbastanza sterile, inutile, automatica. L'abbraccio invece ti avvolge, ti coinvolge e da un abbraccio non scappi. È la cosa forse più istintiva. Il bambino abbraccia il genitore nel momento in cui ha paura. Due persone che non si vedono in tanto tempo vogliono abbracciarsi per dire di essersi ritrovati. Se non abbraccio il pubblico con la canzone non ottengo l'effetto emotivo e quindi dono solo suono, solo sonorità, solo canzone. Visto che le mie canzoni vengono dalla gente, io voglio che poi alla gente ritornino tramite questo abbraccio. Se questa alchimia funziona allora mi verrà restituito un altro abbraccio moltiplicato che è quello potentissimo della condivisione emotiva che è quello che personalmente io cerco in questa esperienza di fronte ad un pubblico. La copertina di Mother Folk, vista poi in questo periodo pasquale, vorrebbe invitare al passaggio, al donarsi e al lasciarsi donare. Soprattutto in epoche dure come queste, dopo pandemie, allarmi sanitari e durante una guerra che ci riporta alle latitudini più infernali della nostra natura, l'imperativo dovrebbe essere quello della protezione dal male, ovvero rifiutarsi di lasciarsi contaminare dal veleno del mondo, dalla rabbia, dal desiderio di distruzione, di vendetta a tutti i costi, per non diventare intossicati da noi stessi. Per non diventare mangiatori e distributori di paura. Non c'è una canzone che rappresenta da sola Mother Folk. Perché? Perché è un disco corale, è un mosaico di 15 brani che si compenetrano e che si completano la vicenda. Grazie.